Dal 10 al 28 ottobre saremo tutti impegnati per il rinnovo dei nostri rappresentanti all'interno dell'Assemblea del Fondo di Previdenza FOPE, che riguarda i lavoratori del settore elettrico. Ti chiediamo di votare e dare fiducia alla nostra lista. In un periodo di incertenza, come quello che stiamo attraversando, la Filtem CGL è al tuo fianco per garantire al meglio i vantaggi della pensione complementare, con una gestione rivolta alla riduzione dei rischi finanziari, attenta alla sostenibilità ambientale e sociale. Scegliere la nostra lista è importante, soprattutto se sei un giovane lavoratore. Così potrai garantirti un reddito integrativo certo, sia ai fini pensionistici che per altre esigenze. Tra i nostri obiettivi, semplificare e velocizzare le pratiche, rendendo l'accesso e la comunicazione con il fondo sempre più rapidi e fruibili, valorizzando la modalità online. Il tuo futuro per noi è importante. Con la nostra competenza ti garantiamo sicurezza del reddito, tutela dei diritti e serietà nella contrattazione. Dacci fiducia, guarda al futuro, vota la lista Filtem CGL.